Olga Schiaffino è ideatrice e organizzatrice di questa manifestazione, i vini del cuore. Ecco, intanto cominciamo a capire cosa sono i vini del cuore. I vini del cuore sono vini il cui assaggio ha lasciato spazio non solo a una descrizione tecnica, ma proprio anche alle emozioni. Infatti noi stiamo proponendo un approccio al vino soggettivo, una sorta di mindful drinking, quindi qualcosa che è legato a un bene consapevole che vada non a ricercare uno stordimento, una dipendenza o un colmare la noia, ma che sia veramente alla ricerca di uomini, di territori e di tradizioni legate al patrimonio vitivinicolo italiano. Ogni anno nella guida i nostri blogger che sono selezionati mediante un contest su Instagram vanno a cercare delle perle enoiche e raccontano quelli che sono stati gli assaggi. Quindi un racconto che potrebbe essere quasi prustiano, che racconta delle memorie, delle emozioni e fa sì che poi il lettore venga avvolto in questa descrizione che lascia spazio anche a delle considerazioni anche da parte di chi legge. Che territori sono coinvolti? Diciamo che abbiamo la fortuna che siano coinvolti i territori da tutta Italia e quest'anno in guida abbiamo avuto tutte le regioni rappresentate. Infatti i blogger devono scegliere dei vini sia della propria regione di appartenenza, perché prima bisogna conoscere la propria terra, e poi di altre realtà sempre italiane. A questa manifestazione possono essere invitate le aziende recensite nelle tre edizioni della guida, quest'anno uscirà la quarta, oltre poi a delle realtà che vengono selezionate direttamente da noi organizzatori.